Bisettrice di un angolo. Dato l'angolo AVB con raggio a piacere, fare il centro in V è descrivere un arco che taglia le due semirette nei punti C ed I. Centrare in C ed I e tracciare due archi di uguale raggio che si intersecano in E. Tracciare la semiretta uscente da V è passante per E. È la bisettrice che taglia l'angolo in due parti uguali.